Un lavoratore in nero e altri 10 risultati non regolari. La Guardia di Finanza di Fasano durante un controllo in una struttura ricettiva nel corso di una festa in cui il personale era impiegato a svolgere diverse mansioni come barman, cassiere, cameriere, guardario, birria, ha verificato che su 12 lavoratori individuati 10 erano irregolari. Con buoni lavoro voucher scaduti e uno completamente non assicurato in nero quindi. E' stata riscontrata anche la mancata emissione di uno scontrino fiscale. Al titolare della masseria sono state contestate sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia fiscale di lavoro sommerso. Controlli ripetuti della Guardia di Finanza nel Brindisino che dall'inizio dell'anno hanno permesso di individuare 43 lavoratori in nero e 12 irregolari. Parte la campagna di ascolto regionale La Puglia in più nella sala Miura di Bari in piazza del Ferrarese. Conferenza stampa il Movimento La Puglia per Vendola rafforza il patto con i pugliesi. Il senatore Dario Stefano e i consiglieri regionali della Puglia per Vendola hanno presentato le novità nella organizzazione del Movimento e le iniziative in cantiere. L'avvio di una nuova fase per rafforzare la funzione di raccordo tra istituzioni, territorio e cittadini in una regione da circa 10 anni impegnata e fortemente coinvolta in un progetto di grande innovazione culturale di governo contro l'antipolitica, dichiara il senatore Stefano. L'unico antidoto a disposizione è la politica. Non servono formule magiche, la politica deve essere quella dell'impegno quotidiano, della presenza nei territori, dell'ascolto e dell'intervento sui temi chiave per favorire la partecipazione. Questo è l'obiettivo del Movimento, ovvero rafforzare il patto con i pugliesi. Un percorso di partecipazione che attraverserà tutta la nostra regione e che proverà a mettere in chiaro tutta una serie di esperienze, di iniziative, di percorsi nati in questi nove anni a guida Vendola che stanno producendo risultati straordinari ma che hanno anche messi in relazione, ulteriore relazione al sistema pugliesi e in continuità per i prossimi anni. Un atto d'amore ma anche un'occasione per poter fare un inventario delle cose da fare, per poter provare a mettere in riga le priorità che ci rimangono da interpretare in questo spicchio di fine legislatura regionale ma anche per mettere in piedi tutti i tasselli per consolidare queste esperienze per far sì che dopo il 2015 il governo del centro-sinistra in Puglia continui ad essere un governo di grande innovazione in continuità con quello fatto in questi anni. Non credo che sia all'ordine del giorno oggi il tema della candidatura, siamo in pieno governo a guida Vendola, un governo nel quale ci riconosciamo fortemente e che vorremmo tanto proseguisse anche nel futuro per i risultati che ha saputo generare. Ora c'è da mettere in campo un'attività politica importante, quella di raccontare, di mettere in chiaro le tante cose fatte in questo lungo periodo, quello che rimane da fare in questo tratto di strada e come programmare la prosecuzione di questa straordinaria esperienza. E quindi il senso di questa mia iniziativa, di questo mio atto d'amore per la Puglia attraverso un tour è quello di sottrarre la discussione sulla Puglia alle competizioni elettorali che non appartengono alla Puglia in questo momento ma che appartengono ad altre istituzioni di livelli diversi per creare tutte le condizioni perché questa esperienza si consolidi ulteriormente e trovi elementi di continuità anche nel futuro. Piero Balsamo, cultore e studioso delle tradizioni popolari, ha condotto anche una ricerca approfondita sui canti della passione. Sì, diciamo che quella che nasce come una vera e propria passione è diventato poi un qualcosa di molto importante per me, mi spiego meglio. Da sempre insomma sono stato incuriosito da questo mondo popolare. Facendo un po' ricerca qua e là e intervistando la persona anziana o comunque il vicino di casa o comunque quando c'erano i nonni ti rendi conto che non c'è solamente la tradizione orale del canto sul lavoro o comunque del canto narrativo oppure del canto scherzoso ma c'è anche una parte dei canti della religiosità e la passione, diciamo così, i canti sulla passione sono quelli che in un certo senso mi hanno più affascinato. Ti rendi conto che un canto che trovi a Francavilla lo ritrovi a Ceglie, lo ritrovi a Villa Castelli perché comunque adesso c'è internet, Facebook, Youtube e quindi le cose sono più veloci ma una volta c'era la stessa identica cosa e quindi la tradizione diciamo così si tramandava o comunque si espandeva in maniera anche veloce. Quindi non solo per le processioni ma quando ci si incontrava anche per una fiera queste cose comunque giravano. Una versione che ne so del canto del sabato santo lo trovi a Francavilla come lo ritrovi da tutte le parti addirittura ci sono delle versioni abruzzesi, delle versioni calabresi, siciliane, delle versioni dove il testo è uguale ma la lingua, io la definisco una lingua, è completamente diversa tipo in Sardegna. Siccome una volta la lingua per eccellenza ufficiale della Chiesa era il latino puoi capire che la povera gente non capiva niente quando si proclamava il Vangelo. Ecco che la Chiesa si studia una sorta di Vangelo figurato. Quindi le processioni e in alcuni paesi per citarne alcuni ad esempio in Sicilia c'è proprio tutto il rito del Cristo che viene inchiodato sulla croce poi c'è l'agonia, poi il Cristo che tira giù la testa, il Cristo che viene schiodato, poi la sepoltura. Tutte queste cose le si ritrova anche nelle nostre zone e ci sono i canti. I canti che in dialetto raccontano tutto quello che è la passione di Cristo. Per citarne uno, velocemente, che lo si ritrova da tutte le parti, c'è quello che racconta proprio della passione dove la figura principale, che è il Cristo, è sempre accompagnata da una sorta di ombra, ovvero dalla Madonna. E c'è una frase importante che fa capire, diciamo così, il mondo di una volta che è legato al manto. Si dice Quando passa lo sabato santo, la Madonna si leva lo manto, si leva con tutto il cuore, Puddica Culloie, Puddica Culloie. L'idea nacque dall'osservazione che esistevano alcuni alberi di olivo nella nostra area che datavano quasi duemila anni di storia, cioè dalla nascita di nostro Signore ad oggi. Questo voleva dire che quegli alberi avevano visto tutto ciò che la storia ha rappresentato da duemila anni fa ad oggi. Non per nulla la mia frase dietro la bottiglia, quando l'olivo, quando l'olio si fa storia, perché rappresenta un po' la storia del popolo, quantomeno meridionale. L'idea è spettacolare, bellissima, perché mette in risalto un olivo che ha realmente il cuore della popolazione locale. Alberi di duemila anni che hanno quasi 18 metri di circonferenza, sono giganteschi, non solo belli da vedere, ma sono anche rappresentativi per ciò che è sempre stato l'olio e l'olivo per il nostro territorio. Siamo alla terza edizione di questo evento, un evento molto importante, perché mette in sinergia sia le amministrazioni comunali che le aziende operanti nel settore olivico. Noi siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso con il Comune di Ostuni e con l'obiettivo di dare un valore aggiunto e valorizzare la nostra Piana degli Olivi, un patrimonio unico al mondo invidiatoci da tutti. Il Growth Festival è un festival dedicato alla valorizzazione dei beni culturali tramite l'utilizzo dell'NTA, quindi delle nuove tecnologie dedicate all'arte. È promosso con il patrocinio del Comune di Ostuni, la Regione Puglia, l'Accademia delle Belle Arti di Foggia e il Circuto Gai, che è i giovani artisti italiani, a cura di primitivi digitali e Glowarp. Il festival si estenderà per tutto il centro storico, con più location di videomapping, che è una tecnica di proiezione digitale, che trasforma qualsiasi superficie in un display dinamico, per proseguire lungo tutta via Cattedrale, dove ci saranno delle luminarie di Decagna, che è un'azienda di maglie, molto famosa nel campo delle luminarie, per poi proseguire al Museo Civico di Ostuni, sede dell'edizione 2014, con le performance del 2014 e un intervento dell'artista barese Raffaele Fiorella, di videoarte. Gli amministratori sono stati molto sensibili a questa nostra iniziativa, ci hanno dato credito, fiducia, e noi contraccambiamo questo secondo anno, ampliando ancora di più l'offerta del festival in sé. Quindi, ripetiamo le performance dell'anno scorso, qui al Chiostro, come diceva Luigi, ci ripeteremo sull'Istituto Museo Civico di Ostuni, con 10 performance provenienti da tutto il mondo. Quindi, il calendario è molto ricco, perché avremo 20 performance in totale, per circa due ore di proiezione. Poi, abbiamo chiesto la certificazione energetica del festival tramite EcoFesta Puglia, e quindi l'emissione di CO2 di tutto il festival sarà ricompensata da rimettere gli alberi, che quindi compensano un po' questa cosa. Ci sarà una dinamo che costruiranno questi ragazzi di EcoFesta Puglia, che sarà attivata a pedali, e quindi la gente incuriosita potrà pedalare, attivare una nostra installazione di LED luminosi, che metteremo in piazza. E quindi il senso è quello, appunto, di utilizzare la luce come medium artistico e utilizzarla come tecnica per valorizzare un po' quei beni culturali, alcuni indoor, al chiuso, che stanno lì, bellissimi, sono un po' in sordina, e utilizzarlo un po' come pretesto. Quindi il videomapping si appoggia al bene culturale, che già di per sé è bello, non ha bisogno in realtà di essere ulteriormente valorizzato. Però ci sono queste tecnologie, sfruttiamole. Ero già affascinato l'anno scorso quando me l'hanno proposto. Tra l'altro devo riconoscere che i ragazzi, la prima edizione, l'hanno fatto solamente con il contributo, così solamente un patrocinio morale dell'amministrazione. Quest'anno c'è stato un contributo anche economico, perché effettivamente ha dato un valore aggiunto alle iniziative che facciamo per la Pasqua. Quindi coloro i quali hanno scelto di passare le vacanze di questo lungo ponte pasquale con noi, sicuramente troveranno qualcosa di originale che arricchirà l'offerta che l'amministrazione comunale dà a chi sceglie il nostro territorio per la propria vacanza. In questo numero del Salus Tg, rapporto osserva salute, gli italiani stanno meglio e muoiono meno per malattie di cuore e tumori. Esordio dei Google Glass in un corso di formazione per cardiochirurghi a Milano. Corruzione e sprechi inefficienze costano alla sanità italiana 23 miliardi di euro l'anno. Timidi segnali positivi per la salute degli italiani, come dimostra la diminuzione della mortalità per le malattie del sistema cardiocircolatorio, i principali killer nel nostro paese. Si muore anche meno per tumori, patologie dell'apparato digerente e cause di morte violenta, ma di più per disturbi psichici e malattie del sistema nervoso. È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto osserva salute, presentato all'Università Cattolica di Roma. La salute degli italiani è buona, anzi oserei dire ottima, e questo è un paradosso perché noi nonostante alcuni elementi negativi continuiamo a vedere un'aspettativa di vita che cresce. Oggi un cittadino italiano, mediamente, se è maschio, può aspirare a vivere quasi 81 anni, se è donna quasi 85. Camice, bisturi e Google Glass. Gli occhiali intelligenti debutano per la prima volta in una sala operatoria italiana a Milano, a inforcarli i cardiochirurghi dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, primo ospedale del bel paese a testare nella pratica la nuova tecnologia da indossare. In questo momento i Google Glass serviranno a formare i medici, ma in futuro potrebbero diventare uno dei ferri del mestiere, assicurano dall'IRCS del capoluogo Lombardo. Oltre 23 miliardi è il costo finale di corruzione, sprechi e inefficienze per la sanità italiana. In senso stretto, la corruzione in realtà manda in fumo ogni anno circa 6,4 miliardi, che generano un effetto moltiplicatore sull'intero sistema. La corruption, totalizzata così 23,6 miliardi l'anno, può essere addirittura maggiore. Sono alcuni dati presentati a Roma nel corso dell'assise nazionale sull'etica in sanità pubblica.